Mi sono alzato all'alba e oggi parleremo di libri Ovviamente prima di farlo vi devo augurare un buon anno a tutti, felice, pieno di salute e pace nel mondo per tutti quanti perché è molto importante pensando a tutte le guerre e tutte le cose brutte che stanno succedendo nel mondo Salute e molta molta felicità e prosperità Augurone a tutti e un buon 2024 Ciao e bene vado Ok Ok ragazzi praticamente questi giorni ho ingaggiato un po' di ragazzi che mi faranno l'intro e l'outro dei prossimi vlog che seguiranno questo bellissimo anno che siamo entrati nel 2024 e come ovviamente vi avevo promesso delle idee l'anno scorso ce le avevo e gli ho dato spunto diciamo da prendere dalle mie idee abbiamo fatto un brainstorming tutti quanti insieme e quindi adesso stiamo aspettando ovviamente che ci lavorino e che mi presentino le bozze per poter scegliere la migliore intro e outro di questi vlog adesso andiamo ancora con la vecchia sigla penso che l'avete visto all'inizio sono andato sono andato sono andato e quindi mi sono cambiato il buono che ho ricevuto a Natale e ora vi faccio vedere i due libri che ho beccato a dir la verità avevo in progetto di prendere tre libri ma non erano disponibili quindi per questo o dovevo aspettare quindi ordinarli tramite online e fare la prenotazione nel negozio oppure a casa o altrimenti scegliermi due libri quello che trovavo e a dir la verità uno l'ho trovato che era nella mia wishlist da parecchio tempo e me lo sono preso e l'altro visto che mi piace la mitologia l'ho beccato sullo scaffale e non ci ho esitato neanche un secondo ora ve li faccio vedere parte praticamente il primo è il mistero delle amazzoni un romanzo di Anna Lynn bellissimo e ho visto che questa autrice ha fatto altri due libri che mi possono veramente interessare che sarebbe il segreto di medusa e la vendetta degli idei visto che a me piacciono moltissimo questo tipo di libri che sono della mitologia dove ho letto anche altri testi il secondo invece la sottile arte di fare quello che ti pare è un libro praticamente dove ti dice di come uscire dagli schemi oltre a essere il numero uno in classifica in Italia perché ha vinto dei premi qualche anno fa e quindi me lo sono preso è un libro che parla praticamente del tuo self control e di praticamente come uscire dagli schemi senza andare a fare l'effetto gregge che ci stanno imponendo di fare oltre all'altra sfilza che devo finire quindi quest'anno sarà anno lettura